Ciao a tutti, sono Francesco Pasinelli, responsabile usato del gruppo Bonera. Io ed il mio team siamo a completa disposizione in smart working per qualsiasi vostra richiesta o necessità. Oggi vi presento i nostri nuovi Super Sales Online Bonera. Fino al 30 di aprile, per le oltre 600 vetture disponibili sul nostro catalogo online, ti offriamo l'opportunità di prenotare la tua nuova vettura con soli 250 euro e grazie alla formula cashback, se cambi idea, ti verranno completamente rimborsati. La prenotazione ti permetterà inoltre di usufruire di questo vantaggio. 1000 euro di extra sconto rispetto al prezzo pubblicato online e per tutte le vetture usate chilometri zero avrai incluso anche il passaggio di proprietà. Per ulteriori informazioni puoi contattarci anche in videochiamata whatsapp al numero 348 588 4339. Non perdere l'occasione, visita subito il nostro sito web www.boneragroup.it. Ciao!